Dai marciapiedi rovinati alle buche sulla carreggiata, dal parco giochi in pessime condizioni alla scarsa illuminazione nelle strade. Sono questi i problemi in cima alla lista stilata dai residenti del quartiere infrangibile. Nei giorni scorsi si è svolta l'Assemblea pubblica del Comitato Infrangibile Sicuro, con gli assessori Paolo Mancioppi e Luca Zandonella. La referente Sara Soresi ha riassunto le varie istanze di cui le istituzioni, a detta del gruppo, dovrebbero occuparsi. Il problema è sicurezza nel weekend, nel senso che molti residenti si sono lamentati per schiamazzi notturni, per vandalismi sulle automobili, specchiatti rotti, vetri rotti eccetera, molte bottiglie a terra. Insomma, chi più ne ha più ne metta e quindi i residenti si sono rivolti a noi che dovremmo servire da tramite con l'amministrazione. Per quanto riguarda il traffico all'Infrangibile, l'assessore Mancioppi ha annunciato che verranno predisposte le misure necessarie affinché il quartiere diventi zona 30. E sugli incroci pericolosi e stretti, anche a causa delle automobili posteggiate in divieto, l'assessore ha promesso l'installazione di specchi parabolici. Il Comitato infine ha ribadito la necessità di una pista ciclabile che colleghi l'ex area apertite a Via 24 Maggio.